La nuova variante covid, frutto della ricombinazione tra le mutazioni di Omicron, è arrivata in Italia. Anche per questo è necessario fare attenzione soprattutto con l'approssimarsi delle festività di Pasqua, che forniranno ulteriori occasioni di contatti stretti. Nel frattempo, la Campania fa i conti con una nuova risalita dei decessi. Sostanzialmente stabili le terapie intensive, mentre si sbuotano le degenze ordinarie. Sul fronte sanitario, Vincenzo De Luca ha ribadito che sulla riorganizzazione dell'assistenza territoriale restano le distanze con il governo centrale. Abbiamo presentato il piano per le 170 case di comunità. Stiamo facendo una battaglia per avere certezze anche sui finanziamenti per il personale. Non abbiamo intenzione di realizzare le case di comunità senza avere certezze sul personale, su chi paga il personale. Nelle province resta alto l'indice di contagio in Irpinia, dove sono risultate positive 662 persone. Al Francipane di Ariano sono 18 i pazienti ricoverati e si registra un'altra vittima, un 62enne della città del Tricolle. Una vittima anche a Benevento, un uomo di 86 anni, di Monte Falcone di Valfortore, che era ricoverato all'ospedale San Pio. Nel Salernitano, invece, sono oltre 1.500 i nuovi contagi nelle ultime ore, un centinaio di casi in meno rispetto al giorno precedente.